Volley femminile stasera Italia Corea del Sud di Nations League fra le più attese Anna Danesi centrale del Monza detta Panda Ascoltiamola al microfono di Maurizio Colantoni No beh, perché un soprannome che mi hanno dato da piccola perché sono comunque una persona molto tranquilla e pacata anche in campo sono quella che porta pazienza quindi da qui il soprannome Panda Panda il suo soprannome per via della sua calma apparente in campo e poi una saetta nel mettere giù primi tempi e soprattutto muri dannosissimi Anna Danesi, una delle giovani ragazze terribili azzurre, idee chiare e talento sogna un posto alle prossime Olimpiadi Ci spero, sono sicura che a Tokyo potremo fare bene quindi è un motivo in più per puntare ad esserci Campione d'Italia con il Liano ora a Monza è uno dei punti fermi della bella Italia È una bellissima Italia, siamo comunque giovani e già molto affiatate Sono sicura che quest'estate sarà comunque vada per i risultati Non lo so, non li dico perché non sono scaramantica ma meglio non dirli Comunque ci divertiremo Secondo te la vera forza di questa Italia qual è? Il fatto che veramente non molliamo mai Giovani, intraprendenti e poi secondo te? Pazze, da morire Pazze, da morire Pazze, da morire